L'Orso Soldato Seconda Guerra Mondiale Un nuovo esercito polacco si stava formando in Medio Oriente nel 1942 sotto il comando britannico, quando uno dei soldati notò un cucciolo d'orso trovato da un ragazzo iraniano. L'orso era diventato orfano dopo che la madre venne uccisa dai cacciatori. I soldati acquistarono il cucciolo e se ne prese cura una rifugiata civile dell'accampamento. Nel mese di agosto l'orso venne donato alla Seconda Compagnia di Trasporto, o quella che verrà poi conosciuta come la ventiduesima compagnia di rifornimento dell'artiglieria nel secondo corpo d'armata polacco, la quale gli diede il nome di Wojtek. Sarebbe presto diventata una mascotte che avrebbe tirato su il morale delle truppe. I soldati gli davano latte da una bottiglia di vodka, della frutta, miele e della birra come ricompensa. Wojtek amava anche le sigarette che fumava e mangiava, oltre a piacergli lottare con gli altri soldati. E faceva anche il saluto militare. Quando l'esercito polacco stava per lasciare l'Egitto per entrare in Italia nel 1943, ci fu un problema con Wojtek, perché essendo un animale non avrebbe potuto accompagnare i soldati durante i combattimenti. Per ovviare il problema, l'orso venne ufficialmente redatto nell'esercito polacco come soldato semplice, ricevendo lo statino e il numero di matricola. Durante la battaglia di Monte Cassino, Wojtek aiutò gli artiglieri portandogli le casse contenenti le munizioni. Uno dei suoi assistenti, Erich Zaharewicz, dovette lasciare l'orso da solo per un giorno per individuare i bersagli. Wojtek venne così incatenato vicino ai soldati che sparavano ai nemici e iniziò a imitare quello che facevano, raccoglieva le casse contenenti le munizioni e le portava vicino ai cannoni. Terminata la battaglia, la ventiduesima compagnia di rifornimento dell'artiglieria inserì un orso con in mano una bomba nel proprio stemma. Quando la guerra si concluse nel maggio del 1945, Wojtek e il ventiduesimo comando vennero trasferiti nel campo di Winfield, nei pressi di Berwickshire, in Scozia. In molti dissero addio a Wojtek, dato che il loro servizio militare li avrebbe trasferiti in altre parti del mondo. Terminato il servizio nel 1947, Wojtek visse nello zoo di Edimburgo, dove diventò popolare localmente, ricevendo le visite dei giornalisti e degli ex militari polacchi che combatterono con lui. Morì nel 1963 all'età di 21 anni. Grazie. 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 Grazie.